Il Consiglio regionale ha approvato con 21 voti favorevoli, 2 contrarie e 10 astensioni, la proposta di legge e disposizioni per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali. L'atto autorizza per l'anno 2021 la spesa massima di un milione di euro per la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo Housing Toscano Investire Società di Gestione del Risparmio SPA per la promozione di servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008. Gli interventi di social housing, infatti, con l'avvento della pandemia, sono stati molto utili per il supporto a problemi di povertà, socialità, rigenerazione urbana e sociale e nel loro ruolo di presidi sociali, nel fornire spazi e azioni a servizio delle comunità. La regione potrà quindi spendere di più per il social housing. Con la PDL che abbiamo approvato noi andiamo a comprare, a autorizzare la Giunta ad acquisire un altro milione di euro di quote del Fondo Sociale Housing Toscana. La misura dell'housing sociale, ricordiamolo che cosa è, è la possibilità di individuare alloggi per quella fascia di popolazione che non rientra nelle case popolari, ma che non ha neanche una situazione economica per accedere al libero mercato. Quindi una fascia di migliaia di persone in Toscana che rimangono fuori da qualsiasi misura di aiuto per la casa. Nel 2014 la regione ha fatto un bando, è aderito per la prima volta a un fondo chiuso di housing sociale e questo ha permesso con il primo investimento e con il secondo del 2020 con 7 milioni di euro di avviare investimenti per 140, oltre 140 milioni di euro e quindi 1.300 alloggi sono stati messi alla disponibilità delle famiglie che ne avevano bisogno. Con quella cifra noi avremmo fatto neanche 40 alloggi ERP. Quindi non perché debbano essere in contraddizione, ma anzi sono misure che vanno di pari passo, ma voglio dire anche che questo intervento che abbiamo fatto oggi si basa su un'analisi di grande risultato delle misure passate. Siamo contenti che alla fine anche l'opposizione abbia capito qual è il significato di questa misura e quindi non abbiano votato contro come invece hanno fatto in commissione. Alla fine di questo dibattito abbiamo deciso di votare un'astenzione perché contro le case popolari moralmente non ci sentiamo di andare contro. Però devo dire quali sono le criticità di questi investimenti perché si parte da 2014 quando sono stati investiti 5 milioni e sono state comprate delle quote di un fondo privato, sottolineo privato, anche perché mi è stato rinfacciato questo in aula, ma è un soggetto privato dove la composizione dei soci però è pubblica. Però chi gestisce il fondo è un privato, è bene essere chiari. E diciamo che questo nel 2014 aveva come impegno da parte della Regione la realizzazione degli alloggi sociali. Nel 2020 è stata fatta un'ulteriore richiesta di... sono state comprate ulteriori quote come appunto per un importo di 2 milioni e qui si cambiava la voce dell'investimento e si parlava di promozione per realizzazione alloggi sociali. Prima era la realizzazione, adesso siamo alla promozione per la realizzazione. Terzo, quello che è appunto in questione adesso, che era oggi, era per promuovere i servizi integrativi, leggo perché è un po' complicato, promuovere i servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi. Cambia ancora, per cui all'interno di tutto questo percorso sinceramente io avevo bisogno, tutta l'opposizione aveva bisogno di chiarimenti di questo. Abbiamo chiesto anche all'interno della Commissione se questi soldi che erano stati dati erano stati dati che rientravano nella categoria di aiuti di Stato e anche in questo caso non c'è stato dato nessuna risposta, c'è stato scritto addirittura sul documento che ci è arrivato dagli uffici. Forse, io credo che di fronte a un esborso comunque economico, avremmo bisogno di certezze. Però quello che ci ha sospettito ancora di più è proprio al termine di questo documento, dove si tolgono un milione di euro dal titolo 2, dove si parla di spese in conto corrente e si trasferiscono in titolo 3, dove si parla di spese per incremento di attività finanziarie. È logico che siamo rimasti, abbiamo chiesto, ci sono state delle risposte da parte dell'assessore che ancora non ci convincono, per terminare il fatto che come si fa a togliere i soldi da case popolari per metterli in un fondo. Ecco, questa è la grande criticità. Però siccome questo percorso di ciò che sta facendo l'assessore all'interno di questo fondo, che i soldi ci verranno restituiti alla termine del completamento, cioè fra 25 anni, partendo da 2014, diciamo che siccome questi soldi sono stati investiti poi in un modo o nell'altro all'interno delle case popolari, ecco, non riteniamo di dover votare contro questa iniziativa, però ci lascia sempre comunque con il sospetto di qualcosa che dobbiamo ancora approfondire. La politica e il Consiglio regionale, in particolare che è l'organo legislativo, il legislatore in ambito appunto regionale deve occuparsi fondamentalmente del tema dell'abitare, perché comunque a secondo di come si gestisce questo tema si avrà una società diversa nei prossimi anni. È chiaro che costringere intere generazioni a nascere, crescere, fare i ragazzi, gli adolescenti, i ragazzi in dei ghetti, poi provoca dei ghetti anche da un punto di vista sociale. Ecco, noi pensiamo che si debba rivedere tutta la discussione in ambito regionale. Sicuramente il tema dell'housing sociale, ovvero di andare a coprire quella fascia grigia che non è sufficientemente povera per poter accedere all'ERP, ma non è nemmeno sufficientemente ricca per poter stare nel libero mercato, è una prima risposta. Noi riteniamo però che debba essere fatto un ragionamento complessivo, debbano essere fatti degli stati generali sull'abitare in Toscana, dove tra le altre cose si metta al centro il tema dell'alienazione degli alloggi popolari, perché con quei soldi si può rigenerare tanto patrimonio che sta accadendo, se ne possono costruire nuovi. Quindi il tema delle alienazioni deve essere un tema dibattuto, così come il tema dell'housing sociale, così come il tema appunto dell'abitare nelle periferie e nei quartieri popolari. Quindi Fratelli d'Italia si farà promotrice di un dibattito approfondito degli stati generali dell'abitare in Toscana. Il housing sociale secondo noi è un grande passo avanti nel modo di interpretare l'abitazione per quanto riguarda le attività legate a ERP o altro. Nel nostro programma avevamo pensato anche al silver co-housing, un'esperienza molto positiva che è stata sviluppata in Francia e in Spagna. Quindi guardiamo sicuramente a favore con questa iniziativa che è stata presa dall'assessora Spinelli, che va in linea secondo noi con quelle che sono le nuove esigenze, ma siamo perplesse per quanto riguarda l'utilizzare strumenti che siano esterni alla regione toscana e non andare in proprio con questo tipo di attività. Quindi coinvolgere un partenariato con il privato, mentre secondo noi un'attività tenuta interamente all'interno della regione permetteva maggiore trasparenza, maggiori controlli e delle spese più attente e mirate, anche perché questo tipo di servizi secondo noi devono essere monitorati con costanza perché ERP in questi anni non ha dato grandissima prova di sé, quindi dobbiamo sicuramente anche qui fare un salto di qualità. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, a Reggello dal 30 ottobre al 1 novembre torna la 48esima edizione della rassegna dell'olio extravergine d'oliva. Il programma spazia da cookie show, degustazioni e visite ai frantoi, a concerti e presentazioni di libri, con tante proposte gioco per i bambini. Un'attenzione particolare è riservata anche allo sport, grazie a percorsi con i bike tra gli olivi. L'oro verde torna così protagonista a Reggello. Un'eccellenza che noi vogliamo valorizzare tutti insieme, sono contento che ci sia il neosindaco Piero Giunti, il collega Cristiano Benucci. Penso che il futuro della Toscana debba passare sempre di più attraverso le sue eccellenze, il rispetto del territorio, il buon vivere. La Toscana è questa, è una terra che negli anni è stata custodita bene. Il nostro obiettivo è continuare a custodirla bene valorizzando quelli che sul territorio si impegnano con passione, impegno ed edizione a far sì che il frutto della nostra terra diventi prodotto, amato e ammirato dalle nostre comunità, non solo di Reggello ma di tutta la regione. Quindi è bello che oggi qui in Consiglio regionale presentiamo uno di quei prodotti che rendono bella la Toscana in Italia e nel mondo. Oggi siamo veramente contenti perché siamo ospiti del Consiglio regionale, ringrazio il Presidente Mazzeo per averci dato questa opportunità di portare Reggello su una vetrina regionale dove noi presentiamo il nostro prodotto per eccellenza, l'olio extravergine di Reggello, un prodotto che per le sue caratteristiche chimiche e di altissima qualità. Quest'anno purtroppo la quantità non è elevatissima però abbiamo una ottima qualità dell'olio e quindi noi ripartiamo dopo un anno di pausa, abbiamo fatto l'anno scorso la rassegna online e quest'anno finalmente in presenza abbiamo la possibilità di esporre attraverso i nostri produttori un olio buonissimo e quindi viva la festa dell'olio di Reggello. Siamo giunti alla 48esima edizione, tanti sono gli appuntamenti per far scoprire ai turisti che cos'è l'olio, che cosa rappresenta l'olio nella cultura reggellese e quali sono le prospettive di questo alimento. Ne parleremo in delle conferenze con dei nutrizionisti ma anche attraverso dei cooking show con chef di fama importante ma anche con le massai del nostro territorio proprio a sottolineare l'importanza dell'olio nella cucina sia di qualità che quella che una volta era la cucina povera. Ne parleremo dell'olio anche insieme alla città dell'olio di cui Reggello fa parte e sarà l'occasione anche alla luce dell'approvazione dei decreti attutativi sull'olio turismo per mostrare come l'olio sia un velico, un attrattore per i turisti e per i visitatori sul nostro territorio. Saranno presenti numerose associazioni come Slow Food, Anapo che curerà la rassegna ma non solo, ci aiuterà con delle degustazioni al Demol, al mercato centrale, comunque tutte le vetrine importanti per i nostri olivicoltori. Saranno coinvolte anche associazioni del territorio come per esempio quelle ambientali che ci accompagneranno nei frantoi per dimostrare proprio come quelli che sono i processi che trasformano l'oliva nel prodotto che noi abbiamo sulle nostre tavole. È un anno complesso per l'olivicoltura perché c'è una scarsa produzione di olive, ma l'olio sarà comunque di ottima qualità e sarà comunque uno degli elementi che identificherà anche per quest'anno il nostro territorio, la nostra Toscana. Un prodotto d'eccellenza che è un po' un passaggio da visita, un biglietto da visita per la Toscana nel mondo. Quindi la rassegna di Reggello è la più longeva manifestazione che nella nostra regione si svolge in tema di olio. Si è caratterizzata perché a Reggello, a seguito anche degli studi e delle analisi che sono state fatte, si produce uno degli oli migliori della regione. Una buona occasione per visitare Reggello, per assaggiare del buon olio e soprattutto per apprezzare le qualità. A Montaione, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre, torna Tartufesta, la mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici del territorio, caratterizzata da stand enogastronomici, artigianato, escursioni a piedi e a cavallo, per scoprire uno dei borghi più belli d'Italia, guidati dall'inconfondibile aroma del tartufo bianco. Non solo una tradizione popolare, ma un'eccellenza dei nostri territori che portano alto il nome della Toscana nel mondo. Un grazie al sindaco Paolo Pomponi, un grazie al vice sindaco Belcari e soprattutto al mio amico e presidente Enrico Sostegni per aver voluto qui in Consiglio regionale poter mandare l'ennesimo messaggio di speranza. Si riparte, si riparte in presenza, lo si fa con fatica. Io so quanta fatica il sindaco, l'amministrazione stiano facendo perché questa iniziativa possa svolgersi. Si svolgerà in sicurezza e si proverà a raccontare un pezzo importante del nostro territorio. Si tiene insieme enogastronomia, qualità dell'ambiente, tutela dell'ambiente. Il tartufo è tutto questo. Consentitemi di ringraziare i tanti tartufai che con fatica, impegno, dedizione in questi mesi hanno continuato a lavorare e sostenere anche la qualità ambientale dei nostri territori. Io davvero sono felice che in questo momento di ripartenza si possa ripartire dalle migliori eccellenze dei nostri territori, dalla qualità diffusa che ha la nostra regione. Ed è bello che il 31 ottobre, il primo novembre, tante cittadine e tanti cittadini della Toscana possano andare a gustare il tartufo ma anche a poter ammirare la bellezza di Montaione, uno di quei borghi davvero belli che fanno grande la nostra Toscana. Per noi è importante ricelebrare questa festa che è la festa più importante per la nostra comunità, che può avere proprio la mostra a mercato del tartufo e degli altri prodotti tipici del nostro territorio dopo appunto uno stop dovuto alla pandemia. e poi purtroppo non è stata un'annata fortunata neanche per la ricerca del tartufo, questa almeno per il momento ecco, però insomma comunque ricelebriamo con grande piacere questo evento. Torna il nostro evento principale che è la festa del tartufo che quest'anno edizione eccezionale sarà due giorni, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre. La nostra festa principale che celebra il tartufo bianco di Montaione. Si inizia con gli stand gastronomici che saranno in centro storico all'interno del nostro borgo che è uno dei borghi più belli d'Italia, ci tengo a sottolinearlo, con la Via dei Sapori. Poi in Piazza della Repubblica ci saranno i nostri tartufi con altri nostri prodotti come le castagne. Poi ci sarà il mercato di arti e mestieri e il portafuori che è sempre all'interno del nostro borgo e nelle vie limitrofe del centro storico. Oltre alla parte appunto di prodotti tipici c'è anche le escursioni sul nostro territorio che vanno da escursioni a piedi a escursioni a cavallo sempre all'interno delle aree tartufigene. La manifestazione è organizzata dal Borgo Alto che è il nostro centro commerciale naturale con il patrocinio naturalmente della regione toscana e con il forte sostegno da parte del comune di Montaione come tutti gli anni però il vero ringraziamento va quest'anno al centro commerciale naturale Borgo Alto. Siamo molto contenti che il presidente Mazzeo abbia accolto l'idea lanciata dal sindaco e dal vice sindaco di Montaione di presentare qui in consiglio regionale l'edizione del 2021 di Tartufesta perché intanto appunto dopo la pandemia si ricomincia ma soprattutto perché Tartufesta è l'insieme di quelle che sono le caratteristiche fondamentali di Montaione uno dei borghi più belli della Toscana quindi è giusto farla qui in questa conferenza stampa. Montaione ha tutte le caratteristiche che ha la Toscana conosciuta nel mondo il paesaggio e la capacità di unire eventi culturali importanti il territorio che è parte anche del programma di Tartufesta e quindi ci sarà la possibilità anche di apprezzare il territorio di Montaione e la parte enogastronomica come parte fondamentale il tartufo è uno dei prodotti da un punto di vista enogastronomico più conosciuti e apprezzati nel mondo quindi insomma una festa che è un modo importante per richiamare tutto il territorio e poi unisce nell'organizzazione una parte importante il centro commerciale naturale, una scommessa della Toscana in passato non sempre hanno funzionato bene i centri commerciali naturali a Montaione ha funzionato, funziona benissimo non solo per questo evento ma proprio come elemento che riesce a usare il turismo importante con i numeri che c'è a Montaione per rivitalizzare il commercio di Montaione quindi insomma una bella festa, un'occasione per tutti per passare dei bei giorni e di assaggiare prodotti veramente buoni